Buonasera, 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 giornata champion, master di champion, bene bene, vigilia di Barcellona Inter, attenzione, anche qui la tensione cresce, ma vediamo oggi cosa è successo, Bayern ha vinto e si sapeva, Young Boys Valencia 1-1, l'Ajax, beh l'Ajax con un po' di sorpresa vince con il Benfica, Offenham Lione, una caterba di gol, la Juve, la Juve ormai super favorita, amici miei, penso che quest'anno noi interisti, ma detto fra di noi che non ci sente nessuno, secondo me per evitare i triplete quest'anno dovremmo vincere la Coppa Italia e noi, solo così, vincendo la Coppa Italia e noi, loro scudette il champion, ma i triplete non lo fanno, impegniamoci in questo. Poi, Real Madrid, non sta tanto bene, Real Madrid ha fatica col Pilzen, la Roma ha fatto il suo compito e Manchester City pure. Quindi diciamo, non grosse sorprese questa prima giornata. Siamo in attesa però della grande partita perché, vedete, perdere a Barcellona ci sta, ci sta e non sarebbe un dramma per nessuno, non so quante squadre riescano a non perdere. E il bello sarebbe se noi non perdessimo. Non dico vincere, ma anche un punto, sarebbe il punto forse decisivo per il superamento del girone. Beh, allora gli ottavi sarebbe un bel traguardo. Ma speriamo almeno di fare una bella figura. Non voglio dire altro. L'attesa, l'attesa, l'attesa. L'attesa è tanta. Anche gli infortuni, gli infortunati, a bella parte in Angolan, molti accercati. Quindi stringiamo i denti, addirittura si vocifra di uno screen davanti alla difesa. Caliamo le luci. Attendiamo in silenzio la giornata domani. Buonanotte a tutti. Forza ragazzi, gradiamoci in silenzio. Bye, bye. Salio Sì Sì